Sai che solo provando a disegnare ti accorgerai che tu nella vita guardi ma non osservi? Eh sì, facendo un esercizio di disegno potrai facilmente capire quanto distratti siamo nella realtà che ci circonda. Ricordo che quando iniziai a studiare in accademia le ombre, guardando a lungo dei gessi, alla fine tornavo a casa e riuscivo a vedere sul volto di mia madre tutti i chiaroscuri di cui era composto. Allenati pure tu, prenditi qualche minuto al giorno, una decina di minuti al giorno basteranno, e fissa con attenzione sempre lo stesso oggetto. Poi prova a buttarlo giù su carta, magari non tutto, solo un particolare, magari solo l'intensità dei chiari e gli scuri che lo compongono. Di lì a poco vedrai come riuscirai a cogliere anche tutti i chiaroscuri nella realtà che ti circonda. E il mondo ti sembrerà molto più profondo e molto più colorato. Prova! Grazie a tutti!